Oggi, fratelli nel Signore, parleremo appunto del ravvedimento e dell'Evangelo, cioè sono due punti che quando si annunzia l'Evangelo a un incredulo non devono mancare, sono due punti principali che sono il ravvedimento, l'esortazione a ravvedersi fatta al non credente e l'esortazione a credere nell'Evangelo. Quindi sono questi due punti che sono fondamentali per quando si annunzia l'Evangelo della Grazia. Ma cosa vuol dire ravvedersi? Ravvedersi vuole dire appunto cambiare completamente pensiero, cambiare completamente sentimento, cambiare condotta, mutare, cioè un mutamento di pensiero, un cambiamento, qualcuno lo definisce come una svolta a U nella propria vita, cioè si stava seguendo una strada e non la si segue più, una strada del peccato naturalmente, la strada che mena alla morte. Si seguiva tale via quando interviene il ravvedimento, cioè quel pentimento profondo, quel compungimento di cuore profondo, ecco che non si è più la stessa persona, non si ha più voglia, non si sente più il desiderio di volgersi verso quella strada e verso una via di peccato. E allora si cambia strada. Questo è un punto fondamentale, perché il punto successivo è, dopo essersi riconosciuti peccatori, allora si sente il bisogno della salvezza, si sente bisogno di un aiuto esterno, perché se uno si riconosce peccatore davanti a Dio, ecco che poi viene, diciamo, spontaneo e naturale che dopo gridi esternamente a quella divinità, se non gli è stata presentata, a quelli Dio che salva e che esiste, che ha creato ogni cosa. Dopo, in questa situazione, ecco quindi che viene accettato l'Evangelo, quindi porgendo l'Evangelo della salvezza in Cristo, ecco che viene accettato. Ma prima di annunziare l'Evangelo si è creata una situazione, nell'animo, una situazione, uno stato d'animo nell'incredulo, si deve, nel nostro parlare, dobbiamo cercare di creare compungimento, questo stato d'animo che è lo stato d'animo che, diciamo, si prepara a ricevere l'Evangelo. Quindi la prima cosa da considerare quando annunziamo l'Evangelo è che dobbiamo scardinare i cuori, dobbiamo, diciamo, zappare questo terreno duro per seminare la semenza, cioè se il terreno è duro l'Evangelo non penetra. Quindi allora dobbiamo, il nostro obiettivo nell'annunziare l'Evangelo è tenere conto, tenere conto che quello è un cuore duro, perduto, quindi lo dobbiamo smuovere, lo dobbiamo scuotere. E a questo può servire anche facendogli vedere all'incredulo che, esortandolo a ravvedersi, perché? Cosa succede? Succede che se non si ravvede, sarà scaraventata l'inferno. E quindi quella è la fine che faranno tutti quelli che non si ravvedono. Non si ravvedono e non credono nell'Evangelo. Se non si ravvedono è chiaro che neanche credono, perché essendo tutti peccatori, il ravvedimento è necessario per tutti. Capite? Non è che ci può essere un credere all'Evangelo senza ravvedimento. Il ravvedimento è obbligatorio per tutti, così come è obbligatorio per tutti credere nell'Evangelo per ottenere la salvezza e il perdono dei peccati, per essere giustificati da Dio, resi giusti per mezzo del sacrificio che Cristo ha compiuto e della sua risurrezione. Quindi il nostro obiettivo nell'annunziare l'Evangelo è prima di tutto smuovere i cuori e portarli al compungimento, partendo appunto dal ravvedimento, perché l'obiettivo nostro qual è? Quello di portare le persone al ravvedimento. È chiaro che noi annunziamo, cerchiamo di far capire all'incredulo qual è il suo stato di peccatore e qual è la sua fine. Quindi cerchiamo di ammorbidire questo cuore. E dopo gli annunziamo l'Evangelo. Questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre nell'annunziare l'Evangelo. Senza il ravvedimento non ci può essere neanche il credere nell'Evangelo. Il ravvedimento, ora parliamo anche di questo, anche per un altro motivo, o meglio, la corruzione moderna di purtroppo delle varie organizzazioni e comunità che ci sono oggi, non so se voi l'avete notato, ma manca, manca la predicazione, la predicazione del ravvedimento, dell'esortazione a ravvedersi dei peccatori. Cioè, il peccatore non può diventare cristiano e continuare a fare le opere che faceva prima, le opere morte, le opere malvagie, i peccati che commetteva prima. Colui che si converte deve cambiare vita, vita, pensiero, parole, sentimenti, deve essere, deve mutare. Ecco perché parliamo di una rigenerazione spirituale, di una risurrezione spirituale, di una nascita a nuova vita. Appunto perché quello che eravamo prima muore, muore e quindi siamo noi che abbiamo creduto diventati una nuova creatura. Quando si annuncia l'Evangelo il desiderio è che Dio rigeneri quelle persone, quindi non possono rimanere come erano prima, non possono continuare a fare il male come lo facevano prima. Erano adulteri e rimangono adulteri, erano fornicatori e omosessuali e rimangono in quello stato. E no, manca il ravvedimento e quindi non ci può essere, non ci può essere neanche la salvezza in Cristo. Quindi è fondamentale il ravvedimento. Purtroppo manca nei messaggi che vengono dati ai non credenti, manca oggi il messaggio dell'esortazione a ravvedersi. Cioè bisogna dire al peccatore che lui deve mutare il comportamento, pensieri, non può rimanere con me, deve cambiare vita. Capite? Cambiare vita. Questo è il messaggio preparatorio all'accettazione dell'Evangelo. Se non c'è questo non ci può essere neanche il credere all'Evangelo, all'Evangelo di Cristo. Quindi annunziare il ravvedimento, annunziare, esortare i peccatori al ravvedimento è assolutamente fondamentale, è fondamentale. E la dottrina del ravvedimento dalle opere morte, che significa il pentimento, il cambiamento, il mutamento di vita, quindi prima quando si era peccatori si viveva in maniera inutile, vana davanti a Dio, si commettevano, si facevano tutte quelle opere malvagie, chiamate appunto opere morte. E in ebrei, in ebrei al capitolo 6, lo scrittore agli ebrei ci dice queste parole. Perciò lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello perfetto. E non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte. Vedete? Il ravvedimento dalle opere morte, poi seguono anche altre dottrine, che io le chiamo le dottrine fondamentali elementari. Cioè queste dottrine indicate qui in ebrei 6, ai primi versetti, sono dottrine fondamentali elementari che ogni cristiano deve conoscere perfettamente. Magari non si può ricordare tutti i versetti, ma deve sapere che queste dottrine sono fondamentali, sono l'elemento fondamentale del cristiano. Infatti insieme al ravvedimento delle opere morte c'è la fede in Dio, senza fede. Poi la dottrina dei battesimi, ricordatevi che abbiamo diversi tipi di battesimi, battesimo in acqua, battesimo con lo Spirito Santo, battesimo dello Spirito Santo, il battesimo nella sofferenza e nella morte qualora Dio ce lo richieda. Anche quello è un battesimo. Questi sono battesimi, ecco perché viene scritto qui al plurale, perché i battesimi sono più di uno, quelli che il credente deve conoscere in maniera... cioè i battesimi fondamentali che il credente deve conoscere, perché ce ne sono altri che però ormai non sono più fondamentali, nel senso il battesimo di Giovanni non è più fondamentale. Lo troviamo nella scrittura, ma oggi non è più il fondamento della salvezza, non è più il fondamento del cristiano. Le altre dottrine fondamentali sono anche l'imposizione delle mani. Eh sì, anche questa è una dottrina che di tutte queste poi ne parleremo. Abbiamo già parlato di qualche dottrina dei battesimi. Oggi stiamo parlando appunto della dottrina del ravvedimento dalle opere morte, ma poi parleremo anche degli altri di cui non abbiamo parlato, delle dottrine fondamentali. La risurrezione dei morti, ad esempio, è una dottrina fondamentale, fondamentale anche questa, e del giudizio eterno, del giudizio finale che avverrà, che sarà dato da Dio. Quindi, vedete, qui la dottrina del ravvedimento dalle opere morte viene data come fondamentale. E quindi è per questo che siamo qui a parlare di questo. Ma noi parliamo di questo e faccio anche notare che purtroppo, purtroppo, tra le altre carenze delle varie comunità è scomparsa questa predicazione del ravvedimento dalle opere morte. Perché era questa la predicazione che portava alle vere conversioni. Questa predicazione. Ed è venuta a mancare. Purtroppo io non li sento più annunziare l'Evangelo, la salvezza, come è scritto biblicamente. Ma li sento piuttosto dire, vieni da noi, Gesù ti ama, il Dio ti ama, addirittura qualcuno dice che i tuoi peccati sono già stati perdonati, solo che tu non lo sai ancora. Ma delle folli, delle parole così stolte che io veramente non riesco a capacitarmi. Ma quello che mi meraviglia di più è che queste persone hanno un seguito. E forse saranno come colui che parla. Perché tale maestro, no? Tale discepolo, come taluni dicono. Quindi come sono i maestri così sono anche i discepoli. Io non credo che un savio si possa mettere a seguire questi insensati che parlano contro le scritture. Non si dedicano a parlare a favore delle scritture, secondo quello che dice la parola, ma contro quello che è scritto. Loro hanno rivelazioni, capite, contrarie, più ampie, moderne, queste loro rivelazioni, che però contrastano con la scrittura. Quindi abbiamo visto che è fondamentale annunziare il ravvedimento dalle opere morte. Andiamo a vedere adesso anche nel Vangelo di Matteo. Vediamo, prendiamo ad esempio cosa annunziavano i Giovanni Battista, Gesù e altri credenti quando annunziavano la salvezza. In Matteo 3,2 leggiamo quello che predicava alle genti che predicava ai giudei Giovanni Battista. Al capitolo 3 del Vangelo di Matteo c'è scritto, or in quei giorni comparve Giovanni il Battista, predicando nel deserto della Giudea e dicendo ravvedetevi poiché il regno dei cieli è vicino. Vedete? Quindi Giovanni Battista cosa domandava? Cosa predicava? Giovanni Battista cominciava appunto con l'esortare al ravvedimento. Infatti Taluni andarono, c'è un passo della scrittura che ci dice che Taluni andarono a Giovanni Battista per essere battezzati e Giovanni Battista li mandò indietro dicendo che prima dovevano portare frutti degni del ravvedimento. Cioè quando uno si è ravveduto deve per forza di cose farlo vedere farlo vedere quando qualcuno, quando questi qui andarono, andarono da Giovanni Battista da Giovanni Battista per essere battezzati, ebbene Giovanni Battista li mandò indietro chiedendo loro di portare frutti degni del ravvedimento. Quindi il ravvedimento porta dei frutti, cioè se uno si è ravveduto lo si vede esteriormente, gli altri lo vedono che ha cambiato vita, ha cambiato parlare, ha cambiato pensiero, lo si vede. Quindi quando uno, faccio un esempio, vuole essere battezzato in acqua ma continua a essere nel peccato, ecco quindi non ci sono frutti degni del ravvedimento. Di conseguenza sarebbe bene non battezzarle in acqua, capite? Cioè si richiede che ci sia il ravvedimento, è obbligatorio, è obbligatorio che ci sia il ravvedimento con i frutti che ne conseguono, altrimenti si mi sono ravveduto ma non c'è stato un cambiamento. Allora è questo, a che cosa è servito il ravvedimento? Comunque abbiamo visto quindi che Giovanni Battista predicava il ravvedimento. Giovanni Battista predicava e diceva anche che il regno dei cieli è vicino. Cosa voleva dire? Quel regno riguardava i cuori, non sta parlando, dobbiamo dirlo anche questo, perché taluni si sono messi in testa di portare il regno dei cieli qui con un governo umano, cioè proprio territorialmente, di portare un regno territoriale. Anche questo è un grande inganno, perché quando veniva annunziato il regno dei cieli, quando Giovanni Battista e Gesù e altri apostoli annunziavano il regno dei cieli, si riferivano al regno dei cieli che è dentro gli uomini, nei cuori, capite? Quindi non un regno materiale, fisico, temporale, ma un regno nei cieli. E questo lo leggiamo perché scritto al Vangelo di Luca, al capitolo 17, dal versetto 20, Luca scrive queste parole. Interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo, il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Vedete dunque? Il regno di Dio era dentro, era dentro di loro, cioè è nei cuori. Quindi quando parliamo di regno di Dio, del regno dei cieli, stiamo parlando di qualcosa che è nei cuori, che regna nella vita interiormente delle persone, non di un regno temporale, conquistiamo più nazioni possibili così il regno dei cieli, il regno di Dio è portato qui sulla terra. No, non è così, perché il regno dei cieli penetra, penetra nei cuori, nei cuori delle persone. E' lì che si deve, nell'interiore degli uomini, che penetra il regno dei cieli. Quando uno entra a far parte del regno dei cieli è perché è rigenerato spiritualmente, non perché è in una nazione protestante evangelica. Capite? Non è che uno che entra in Germania, in America o in Inghilterra, riconosciute come nazioni protestanti, non è che diventa protestante anche lui, no? Perché il regno dei cieli è nei cuori, la salvezza è personale dentro il cuore di ciascun nuovo. Quindi abbiamo visto ancora che Giovanni Battista annunziava il ravvedimento. Anche Gesù, quando ha iniziato a predicare, e questo lo leggiamo nel Vangelo di Marco, ai primi capitoli, anche quando Gesù ha iniziato a predicare, diceva le stesse cose che diceva anche Giovanni Battista. Al capitolo 1 di Marco, ai versetti 14 e 15, leggiamo. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando l'Evangelo di Dio e dicendo, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravedetevi e credete all'Evangelo. Vedete? Questa era la predicazione di Gesù. Gesù predicava il ravvedimento, cioè il mutamento di vita, il cambiamento di vita, un cambiamento totale di mente, di condotta e anche di sentimenti. E dopo questo veniva a credere all'Evangelo, alla buona notizia della salvezza che era in Cristo Gesù, nella morte e nella sua risurrezione. Questo era il messaggio, capite, di ravvedimento che veniva annunziato da Gesù. Ma ora vediamo che questo messaggio lo annunziavano anche, andiamo più avanti, sempre nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, quando c'è la missione dei dodici. Anche i dodici, quando andarono ad annunziare la salvezza, annunziavano le medesime cose, il ravvedimento. Annunziavano alle persone che si dovevano ravvedere. A capitolo 6 di Marco leggiamo queste parole, dal versetto dodici. Quindi Gesù scelse i dodici per mandarli a due a due ad evangelizzare, ad annunziare la buona novella. Marco scrive queste parole che riguardava appunto il messaggio che questi dodici dovevano portare. E partiti predicavano che la gente si ravvedesse. Cacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Vedete, quando i dodici andarono a predicare, predicavano che la gente si ravvedesse. Non è che dicevano alla gente state bene così, Gesù vi ama così, Dio vi ama così come siete, andate a Dio così come siete. No! Gli diceva voi, per andare a Dio dovete abbandonare il vostro peccato. Questo è il messaggio del ravvedimento. Voi dovete inginocchiarvi davanti a Dio, abbandonare, cessare al più presto, immediatamente ogni peccato che state praticando. Esaminando voi stessi, abbandonate ogni peccato, inginocchiatevi davanti a Dio nella vostra cameretta e annunziate e gridate a Dio affinché egli abbia pietà di voi e vi salvi. Capite? Questo è il messaggio che bisogna annunziare ai non credenti, che si devono inginocchiare, riconoscersi loro peccatori e bisognosi di salvezza. E poi devono invocare Dio per ottenere il perdono dei loro peccati. E credere che per ottenere il perdono dei loro peccati devono credere nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto e nello spargimento del suo sangue per purificare i peccati, per ottenere la remissione dei peccati e il terzo giorno Gesù. Devono credere che Gesù è risuscitato dai morti per la nostra giustificazione. Essendo Gesù risuscitato, credendo che Gesù è risuscitato il terzo giorno, si viene giustificati, cioè si viene resi giusti, quindi perdonati, purificati e giustificati da Dio, resi giusti, non per le nostre opere, ma per la fede in quello che Gesù ha compiuto, in quello che Dio ha fatto. E questo è il messaggio del ravvedimento ancora che portavano anche i dodici, che portavano anche i dodici. Poi vediamo adesso, andiamo all'Evangelo di Luca, dopo che Gesù fu risuscitato, disse queste parole ai suoi discepoli, diede disposizione su come dovevano evangelizzare, su cosa dovevano annunziare ai non credenti. Quindi siamo agli ultimi versetti del Vangelo di Luca, 24, 46, dal 45, dal 45 è scritto allora, quindi Gesù la situazione è questa, Gesù è risuscitato e apparve ai suoi discepoli e disse loro queste parole. Luca scrive queste parole, allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro, così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti. Il terzo giorno è che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento. Vedete dunque? Che nel suo nome, nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ma vedete tutto il messaggio parte sempre dal ravvedimento, quindi il ravvedimento rimane, come abbiamo letto anche in ebrei, una dottrina fondamentale, è un messaggio fondamentale da trasmettere, da trasmettere alle genti, ai non credenti, a tutte le genti, giudei e gentili, a tutti quanti bisogna annunziare il ravvedimento. E' questa la partenza del messaggio, perché è questo che deve portare il non credente a pentirsi, a riconoscersi peccatore davanti a Dio. Quindi dobbiamo insistere su questo punto. Devono cessare immediatamente di compiere il peccato che stanno compiendo ed esortarli a credere, a domandare a Dio la salvezza e Dio che è misericordioso, purificherà i loro peccati e li rigenererà spiritualmente. Però noi adesso stiamo leggendo queste cose che riguardano il messaggio che noi dobbiamo portare a quelli che non sono credenti, capite? Il messaggio di cui vi sto parlando oggi è quello che, per cercare di farvi comprendere, di farvi comprendere qual è il tipo di messaggio, quali sono i punti fondamentali che quando si annuncia l'Evangelo della grazia ai non credenti, quali sono i punti che non possono mancare nel messaggio. Questi punti del ravvedimento e l'Evangelo non possono mancare. Poi tutto il resto può venire in un secondo momento, in un altro, se il discorso si amplia, si può parlare di tante altre cose. Ma non è confutando i cattolici che vengono salvati, non è citandogli il secondo comandamento, non è citandogli la confessione, la messa o altro. I cattolici, prima di tutto, devono essere esortati, così come anche tutti gli altri, a ravvedersi e a credere nell'Evangelo, spiegandogli cos'è il ravvedimento, spiegandogli cos'è l'Evangelo. Ecco, quindi, e dopo poi si può passare a parlare delle altre cose, ma le altre cose possono mancare. Questo messaggio del ravvedimento e di credere nell'Evangelo, questo no, non può mancare, non può assolutamente mancare, perché la scrittura, Gesù e gli apostoli e i servitori di Dio hanno annunziato la salvezza in questa maniera. E noi ci dobbiamo attenere a tutto quello che è scritto e comandato nella parola di Dio. Quindi ci è richiesto di annunziare la salvezza ai non credenti in questa maniera. E questo dobbiamo farlo secondo quanto è scritto. Adesso andiamo a leggere al capitolo 16, al capitolo 16, che ci fa capire, allora leggeremo dei versetti che riguardano, diciamo, il ricco e l'azzaro che sono nell'Hades. Il ricco è nei tormenti e l'azzaro invece è nel seno di Abramo. Questi passi ci fanno riflettere sul fatto che uno dice, ma se ci sono dei segni, se ci sono dei segni potenti che avvengono, possono credere anche solo con i segni. I segni, quando Dio li compie, certamente sono utili, perché noi sappiamo che Dio compie molti segni e prodigi, ma non sono i segni, non sono i prodigi quelli che salvano. Quello che salva è sempre il messaggio dell'Evangelo, quindi qualsiasi segno ci sia, qualsiasi, ognuno di noi, qualsiasi segno che Dio gli conceda di fare, di ottenere, ebbene, sempre il messaggio dell'Evangelo bisogna annunziare, sempre il messaggio della parola di Dio, che è scritta nella parola di Dio, perché è questo messaggio che salva il messaggio della parola, non i segni. I segni possono servire per accreditare colui che annunzia il messaggio della salvezza, possono servire per attirare l'attenzione, possono servire per altri motivi particolari, però non salvano i segni e i prodigi non salvano, quindi sono utili, noi ci crediamo che Dio li compie ancora, li desideriamo e preghiamo il Dio che li compia, ma non sono quelli che salvano, quindi noi dobbiamo annunziare quello che salva, cioè il messaggio della salvezza, il ravvedimento e di credere all'Evangelo. E qui lo vediamo nelle parole di Abramo, qui è Abramo che ci insegna le cose che sto dicendo adesso. In pratica il ricco dice a Abramo di far risuscitare praticamente Lazzaro e di mandarlo ai suoi fratelli, affinché vedendolo risuscitato e parlandogli magari a queste persone che ha visto suo fratello all'inferno, si sarebbero potuti convertire. Ma la risposta di Abramo è questa, al versetto, quindi capitolo 16 di Luca, al versetto 29, dal versetto 29. Abramo disse, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli, ed egli, il ricco che era nei tormenti, ed egli, no padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Quello che dobbiamo comprendere noi è quello che è necessario, è la parola di Dio, non i segni, quello che è necessario è la parola. All'epoca, diciamo, era conosciuta la legge di Mosè e quello che avevano scritto i profeti. Oggi abbiamo la legge di Mosè, i profeti e abbiamo anche gli scritti del Nuovo Patto, i Vangeli e le Epistole degli Apostoli. Quindi quello che è necessario per la conversione è nelle scritture. E questo è la cosa, è semplice per noi, dobbiamo attenerci alla parola, perché sempre per la parola sappiamo che è Dio che concede il ravvedimento, è Dio che concede la salvezza. Quindi non è che ci dobbiamo inventare i segni per convincere per forza quella persona a convertersi. Noi siamo tenuti ad attenerci alla parola, annunziare il ravvedimento e di credere all'Evangelo e noi sappiamo bene che se il loro nome è scritto nel Libro della Vita, solo in quel momento, solo per quelli che sono scritti nel Libro della Vita ci sarà una conversione, ci sarà la salvezza, ma per quegli altri che non sono scritti nel Libro della Vita non ci sarà niente da fare. Quindi se si convertono noi non abbiamo fatto nulla, siamo servi disuttili, non dobbiamo gloriarci di nulla. Se invece non si convertono non abbiamo neppure la responsabilità. Cioè non è che siamo noi che abbiamo parlato male, abbiamo parlato poco, siamo stati deboli nel parlare. Non abbiamo la responsabilità. Se annunziando l'Evangelo a qualcuno questi non si converte. Così come non abbiamo gloria perché è Dio che fa crescere, è Dio che salva, è Lui. È chiaro che noi non sappiamo quelli che sono scritti, noi non li conosciamo. Se uno è scritto nel Libro della Vita e un altro no, questo non lo sappiamo. Quindi qual è lo stato d'animo che noi dobbiamo avere nell'annunziare l'Evangelo? Noi dobbiamo sempre considerare che questa persona è una che è scritta nel Libro della Vita. Quindi dobbiamo parlare con una pienezza di convinzione, certezza di fede particolare, come se quella persona si dovesse convertire in quel momento, perché il messaggio di evangelizzazione, fratelli e sorelle, è un qualche cosa di drammatico, è qualcosa che, capite, subito dopo ci potrebbe essere o il cielo o l'inferno per quella persona. Quindi quando si annuncia l'Evangelo il momento è particolare, è molto drammatico, perché quello lì, domani, se non lo sente più l'Evangelo, si dovrà attaccare solamente a quello che voi gli avete detto, che noi gli abbiamo detto. E quindi può, da quel messaggio che ha ascoltato, scegliere la vita o scegliere la morte, in base sempre che noi sappiamo, in base sempre a quello che Dio ha già stabilito. Ma per noi la situazione è questa, cioè quella persona ci sta ascoltando e potrebbe, dalle nostre parole, andare a finire l'inferno, oppure andare e credere e quindi essere salvato. E gli si apre il cielo davanti. E quindi questo è lo stato d'animo che dobbiamo avere. Senza responsabilità ma senza gloria. Non è che adesso io ho annunciato l'Evangelo a tante persone, si sono convertite, tu quante ne hai salvate, tu solo una, io di più dieci, allora ci mettiamo a contare, quello è meglio di quell'altro, no, è Dio che salva. Ringraziamo il Dio quando si serve di noi per annunziare l'Evangelo, perché subito dopo ci sentiamo ripieni di gioia, no, ripieni di pace, contenti, felici di essere stati utilizzati da Dio per fare la sua opera. Che poi le persone si salvino, si convertono, oppure no, quello non spetta a noi saperlo. Molte volte annunziamo la parola a qualcuno che poi non rivedremo più. Se Dio vorrà ci incontreremo di nuovo, magari ci diranno dopo anni Ah, io mi sono convertito grazie alla tua evangelizzazione, dopo anni. Non subito. A volte si può accadere che annunzi l'Evangelo a uno e quello si converte. Eh, gloria a Dio! Però noi rimaniamo sempre servi disuttili. Questo serve lo dobbiamo dire, perché dobbiamo rimanere umili. Perché se c'è una cosa che Dio non sopporta è l'orgoglio, la superbia, ritenersi superiori agli altri. Inorgoglirsi interiormente, capite? Perché uno può essere orgoglioso interiormente, anche se fuori sembra umile, eh? Badate bene. Io parlo di un orgoglio interiore. Ognuno esamini se stesso per vedere se dentro di lui c'è un qualche scoria di orgoglio ancora che deve eliminare, bisogna eliminare tutto quello che fa capo all'orgoglio, perché questo è uno di quei peccati gravissimi davanti al Signore. Quindi dobbiamo annunziare l'Evangelo con questo stato d'animo, come se fosse l'ultimo momento per quella persona di ascoltare l'Evangelo e subito dopo potrebbe o andare all'inferno o convertirsi. Quindi noi dobbiamo annunziare l'Evangelo in questa maniera. Questo è lo stato d'animo che ognuno di noi deve avere quando annunzia l'Evangelo. Quindi il fatto che noi sappiamo che esista un libro scritto dove ci sono quelli salvati, non ci deve rammollire le braccia, non ci deve far abbassare la guardia, non ci deve far prendere la cosa poco seriamente. No, noi è come quando evangelizziamo, dimentichiamolo per un attimo in quel momento in cui stiamo annunziando, oppure consideriamo che la salvezza di quella persona dipenderà dal tuo messaggio. Questo è lo stato d'animo che tu devi avere quando annunzi l'Evangelo. Potrebbe non avere una seconda possibilità. Poi certamente la scrittura ci insegna che saranno salvati solo quelli che sono scritti nel libro della vita. Solo quelli saranno salvati, e va bene, questo lo sappiamo, ma una cosa è sapere determinate queste cose. Un'altra è quello che dobbiamo fare, capite? Cioè, noi sappiamo dal punto di vista di Dio che Lui sa già tutto e farà Lui le opere, ma a noi la scrittura ci richiede di annunziare l'Evangelo con pienezza di convinzione, e quindi non possiamo tirarci indietro da questo. Non ci possiamo tirare indietro, lo dobbiamo fare in questa maniera, come dice la scrittura. Ma andiamo avanti, andiamo avanti ancora e vediamo anche l'Apostolo Paolo. Quando l'Apostolo Paolo annunziò l'Evangelo agli Atteniesi, cosa annunziò? Io sto per fare un altro esempio. Quando l'Apostolo Paolo annunziò l'Evangelo agli Atteniesi, quindi andiamo al capitolo 17 di Atti degli Apostoli, dal versetto 30, quindi fa tutto, racconta, diciamo annunziò, fa tutto un messaggio agli Atteniesi nell'Areo Pago, Paolo, e poi tra le altre parole dice queste, dal versetto 29. Essendo dunque progenie di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro, ad argento o a pietre scolpiti dall'arte e dall'immaginazione umana. Il Dio dunque, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi. Vedete? Qui c'è anche la volontà di Dio. Paolo parlò qui della volontà di Dio. Quale era la volontà di Dio? La volontà di Dio era appunto, dice così, Il Dio dunque, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi. Vedete? Quindi la volontà di Dio è che si annunzi a tutte le persone, a tutte le genti che si devono ravvedere. Questa è la volontà di Dio, che si annunzi l'Evangelo a tutte le genti, a tutte le razze di persone, non solo a una cerchia di persone ristrette, ma a tutti, poveri, ricchi, ignoranti, savi, gente acculturata, gente in autorità, gente che magari dalla società è ritenuta di cui non si tiene conto in questa società. Ma l'anima, il Dio vuole che le anime siano tutte salvate, cioè vuole che si annunzi l'Evangelo a tutte le anime, alle anime di ogni tipo, di genere, di persone. E' questo che vuole dire il Dio quando dice che vuole che tutti gli uomini siano salvate. Cioè vuole il Dio che la parola sia annunziata, il messaggio di salvezza sia annunziata a tutti. Poi, questa è l'opera che dobbiamo fare noi. Ma quello che Dio farà poi in ciascuno delle persone lo sa Lui. Ci sono quelli che saranno salvati e ci saranno quelli invece che saranno indurati, come dice la parola, in altri punti. Perché noi dobbiamo considerare sempre che dobbiamo tenere conto della somma della parola. Quindi dal punto di vista di Dio, Lui sa chi viene salvato. Ma dal nostro punto di vista la parola ci esorta, ci dice, ci insegna che dobbiamo annunziare l'Evangelo a tutti, piccoli e grandi. Quindi dobbiamo obbedire a quello che dice la parola e annunziare l'Evangelo con uno stato d'animo particolare, giusto, corretto, con tutto il cuore, cercando di penetrare nei cuori a cui parliamo. E che cosa dobbiamo annunziare? La scrittura ci ha appena, ci ha fatto capire appunto che cosa dobbiamo annunziare. Dobbiamo annunziare il ravvedimento che quelle persone devono abbandonare il peccato. È obbligatorio per andare a Dio abbandonare il peccato, cessare di peccare, riconoscersi peccatori e chiedere a Dio, credere nel sacrificio che Cristo ha compiuto, nel sacrificio dell'Evangelo e credere in questo sacrificio. Allora lo Spirito Santo opererà in loro e saranno salvati, saranno rigenerati spiritualmente. Abbiamo visto quindi che gli Apostoli, Gesù, Giovanni Battista, anche gli altri Apostoli e annunziavano quindi il ravvedimento nel loro messaggio di salvezza. Adesso volevo prendere degli esempi con voi per farvi capire cosa vuole dire ravvedimento, come la scrittura presenta, come lo spiega la scrittura, cosa vuol dire ravvedersi. Iniziamo da un passaggio che c'è nei Vangeli. E qui dobbiamo tornare al Vangelo di Matteo. Prendiamo una parabola, la parabola dei due figlioli. Questa parabola ci fa capire cosa vuole dire ravvedersi, pentirsi. Quindi siamo al capitolo 21 di Matteo, dal versetto 28. Leggiamo cinque versetti. Orche vi paregli, un uomo aveva due figlioli. Accostatosi al primo disse, Figliolo, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispondendo disse, Vado, signore, ma non vi andò. E accostatosi al secondo gli disse lo stesso, Ma egli rispondendo disse, Non voglio. Ma poi, pentitosi, vi andò. Qual dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero, L'ultimo. E Gesù a loro, io vi dico in verità, i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto. Ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto. E voi che avete veduto questo, neppur poi vi siete pentiti per credere a lui. Qui questa parabola ci fa capire cosa vuol dire ravvedersi. Vedete, prima quel figliolo era disubbidiente, il secondo figliolo. Invece il primo figliolo disse di sì, quindi con la bocca disse di sì, ma poi non fece, non mise in pratica il comando che gli diede il padre. Il secondo, che era ribelle, disse no, però dopo cosa è successo? Si pentì. Questo pentittesi, pentittosi, altri traducono anche come ravvedimento, la Diodati traduce il ravvedimento, si ravvide, si pentì, cambiò pensiero, cambiò modo di comportarsi, modo di vedere le cose. dopo che si pentì, ecco che fece quello che il padre gli chiese. Vedete, cambiò completamente idea e poi lo fece quello che disse di fare, quello che piaceva al padre. Lo fece, non solo si pentì dentro, ma lo mise in pratica. Quindi, ecco, bisogna ravvedersi e portare frutti degni del ravvedimento. Quando uno si pente, quando uno dice di essersi pentito di una certa cosa, poi deve portare anche i frutti degni del ravvedimento di quella cosa di cui si è pentito, non la deve fare più. Ed è bene che sia così, perché altrimenti l'ira di Dio poi, poi, prima o poi, cadrà, cadrà su, su queste persone che non si pentono e non si ravvedono. Infatti, dopo vedremo cosa succede, cosa dice Gesù a quelli che non vogliono ravvedersi. Adesso volevo farvi un altro esempio. Questo esempio serviva per farvi capire cosa vuol dire questo cambiare idea, cambiare strada. Citiamo un altro passaggio che anche questo è molto noto. andiamo a leggere dal profeta Giona. Dal profeta Giona, leggeremo qualche versetto, il capitolo 3 del profeta Giona ci fa capire chiaramente cosa vuol dire ravvedersi. Capite? Questo capitolo 3 lo dovete tenere sempre presente a mente perché vi spiega cosa significa ravvedersi. in pratica, praticamente. Voi sapete che il profeta Giona fu chiamato da Dio per mandarlo a Ninive per mandarlo a Ninive e per annunziare che se non si sarebbero ravveduti sarebbero stati distrutti. Giona, conoscendo la misericordia di Dio, non voleva andare a Ninive, ma non per disubbidire a Dio, non voleva andare appunto perché conosceva quanto Dio era misericordioso e il desiderio di Giona era quello di vedere i Niniviti distrutti. Capite? Quindi perché scappò da un'altra parte Giona? Non perché aveva paura, non perché voleva disubbidire a Dio semplicemente perché aveva un cuore ribelle, no, perché conosceva bene Dio, per quello se ne andò da un'altra parte, perché aveva capito Giona che Dio aveva deciso mandandogli un profeta ad annunziargli il ravvedimento, aveva capito che poteva esserci la possibilità che Dio avesse misericordia dei Niniviti, nemici, acerrimi del suo popolo di Israele e Giona, da buon israelita, da buon ebreo, voleva la distruzione dei suoi nemici, tra cui Niniviti, gli abitanti di Ninive, ed è per questo che fuggì dall'altra parte, ma il Dio aveva deciso di mandare Giona e ha operato, ha operato in maniera che ci andasse, non è che è retrocesso il Dio dalla sua volontà, è dovuto retrocedere Giona, no? Ma il Dio è stato buono e misericordioso, vedete, anche con Giona, come lo è stato poi coi Niniviti. Adesso vediamo, ho detto questo, ho fatto questa premessa perché anche su Giona purtroppo si predicano tante cose che ritengo non siano corrette, ma basta semplicemente leggere i quattro capitoli del profeta Giona per rendersi conto di quello che insegna veramente la scrittura, quindi qui non stiamo interpretando diversamente, non vogliamo fare discorsi solo perché vogliamo distinguerci da altri, ma solamente noi ci vogliamo attenere a quello che dice la parola. La parola dice questo e noi ci atteniamo a questo. Ora leggiamo il capitolo 3 dal punto di vista del ravvedimento, perché anche Gesù cita questo esempio nel ravvedimento, no? Allora, prima di leggere Giona leggiamo dove Gesù cita i Niniviti, ecco quindi noi citiamo il ravvedimento dei Niniviti appunto perché Gesù lo ha citato anche lui e lo ha posto come esempio di ravvedimento e noi dopo lo andremo a leggere. Gesù ha detto queste parole, capitolo 12 di Matteo al versetto 41 dice i Niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Vedete? Cioè intanto Gesù non dice attenzione che erano salvati non si sta parlando qui di salvezza spirituale dei Niniviti ma semplicemente che la loro vita sulla terra è continuata nel momento in cui Dio aveva deciso di distruggerli per il loro peccato ha mandato il profeta Giona per predicare loro il ravvedimento e si ravvidero e Gesù li cita i Niniviti lo cita i Niniviti si ravvidero quindi come si sono ravveduti i Niniviti così si devono ravvedere tutti tutti prima di essere salvati devono ravvedersi ora leggiamo qualche versetto del profeta Giona capitolo 3 e la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini levati va a Ninive la gran città e proclamale quello che io ti comando e Giona si levò e andò a Ninive secondo la parola dell'Eterno or Ninive era una grande città dinanzi a Dio di tre giornate di cammino e Giona cominciò a inoltrarsi nella città per il cammino di una giornata e predicava e diceva ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta e i Niniviti credettero a Dio bandirono un digiuno si vestirono di sacchi dai più grandi ai più piccoli ed essendo la notizia giunta al re di Ninive questi si alzò dal trono si tolse di dosso il manto si coprì di un sacco e si mise a sedere sulla cenere e per decreto del re e dei suoi grandi fu pubblicato in Ninive un bando di questo tenore uomini e bestie armenti e greggi non assaggino nulla non si paschiano non bevano non bevano acqua uomini e bestie si coprano di sacchi e gridino con forza a Dio e ognuno si converta dalla sua via malvagia e dalla violenza perpetrata dalle sue mani chissà che Dio non si volga non si penta e non acquetti l'ardente sua ira sì che noi non periamo e Dio vide quel che facevano vide che si convertivano dalla loro via malvagia e si pentì del male che aveva parlato di far loro e non lo fece vedete quindi Giona disse ai Niniviti che sarebbero stati distrutti riconobbero i Niniviti lo riconobbero prima dentro di loro stessi capite quindi il mutamento avvenne prima nei loro pensieri e interiormente e dopo misero in pratica un comportamento che mostrava chiaramente che si erano ravveduti mostrava il loro comportamento chiaramente che si erano pentiti delle loro malvagità ma veramente però era un pentimento vero e Dio lo comprese questo perché Dio legge anche nei cuori non è che Dio guarda solo alle opere esterne poi Dio vede anche nelle profondità del cuore quindi non è che hanno ingannato il Signore non potevano ingannare Dio e quindi Dio si pentì e non mandò più il male su quella città la voleva distruggere e dopo siccome si ravvidero ecco che quella città non è stata più distrutta il Dio li ha fatti vivere e la parola dice ancora nel profeta dice che là c'erano circa 120.000 persone erano più di 120.000 persone qui dice che capitolo 4 versetto 11 versetto 11 di Giona dice e io non avrei pietà di Ninive la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame quindi qui bisogna prenderla così che 120.000 persone sono da considerare che non discernono la destra dalla sinistra consideriamo come se fossero i bambini solo i bambini di quella città se noi prendiamo perché qui diciamo si sono sbizzarriti in tanti a dare diversi significati su questo significato di non distinguere la loro destra dalla loro sinistra io personalmente dico che si riferiva ai bambini ai piccoli bambini che non discernevano la destra dalla sinistra solo i bambini erano 120.000 voi immaginatevi tutte le altre persone che c'erano questo per farci un'idea di quante persone c'erano in quella in quella città erano veramente numerosi erano molto numerosi e Dio ha voluto avere ha fatto in modo di avere misericordia capito perché se Dio non voleva non voleva che quella città si ravvedesse ecco perché qui rientra la predestinazione come Dio ha stabilito no? che le cose vanno come Dio ha stabilito perché se Dio aveva intenzione di distruggere quella città non avrebbe mandato il profeta Giona e avrebbe fatto in modo di indurare e seppure li voleva comunque sia distruggere li avrebbe indurati nel cuore e li avrebbe distrutti li avrebbe distrutti quindi quindi Dio ha mandato il profeta Giona ma ha operato anche nei loro cuori per farli ravedere per farli ravedere e quindi Dio poi ha stornato il male che aveva promesso di fare loro e non li ha distrutti ma questo passaggio comunque a noi ci interessa in modo particolare perché ci fa comprendere cosa vuole dire ravvedersi davanti a Dio vedete hanno cambiato completamente si sono pentiti con tutto loro stessi hanno bandito un digiuno per tutta la città neanche le bestie hanno mangiato qualcosa né piccoli né grandi vedete quindi questo modo di comportarsi di questi abitanti di Ninive dei cittadini di Ninive fa comprendere chiaramente cosa vuol dire ravvedersi ravvedersi e pentirsi del male che stavano facendo questi i Ninivi i Niniviti si ravvidero e abbiamo visto che non sono stati distrutti adesso dobbiamo tornare nei Vangeli perché Gesù fa capire in uno dei suoi discorsi che quelli che non si ravvedono saranno distrutti quindi fa degli esempi di persone che non si sono ravvedute che sono morte e dice poi che la stessa cosa sarebbe successa sarebbe successa a tutti coloro che non si sarebbero ravveduti quindi da una parte se le persone si ravvedono ecco che Dio ha misericordia di loro ma se non si ravvedono cosa succede? E qui lo leggiamo al capitolo 13 Vangelo di Lucca al capitolo 13 leggiamo queste parole che riguarda Gesù sono quattro versetti In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato coi loro sacrifici e Gesù rispondendo disse loro pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto tali cose? no vi dico ma se non vi ravvedete tutti similmente perirete o quei diciotto sui quali cadde la torre in siloe e li uccise pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? no vi dico ma se non vi ravvedete tutti al par di loro perirete vedete ora cosa ci fa capire questo passaggio ci sono taluni che muoiono va bene ci sono tanti malvagi sulla terra che non si ravvedono taluni vengono colpiti prima di altri quelli che vengono colpiti diventano una testimonianza vivente per quelli che non si sono ancora ravveduti e periranno anche loro come sono periti quelli che non si sono ravveduti periranno anche gli altri sono periti taluni e periranno anche gli altri se non si ravvedono se non si ravvedono anche gli altri periranno e seppure non periranno in una certa diciamo arriveranno alla fine dei loro giorni diciamo in vecchiaia pure saranno lo stesso scaraventati all'inferno quindi comunque sia gli aspetta un'eternità di fuoco un'eternità un'eternità di punizione quelle persone che non si ravvedono non si pentono dei loro peccati e andranno in perdizione noi sappiamo già che quelli che non sono che non sono scritti nel libro della vita non si ravvedono lo sappiamo già ma leggiamo tutti questi passaggi che noi poi dobbiamo esporre quando annunziamo l'Evangelo quando annunziamo la salvezza perché noi non sappiamo se quella persona è diciamo scritta nel libro della vita non lo sappiamo noi dobbiamo dobbiamo agire in una maniera forte con pienezza di convinzione dobbiamo annunziare questi messaggi questo messaggio di ravvedimento e di salvezza e citando volendo anche questi passaggi esortandoli spaventandoli con l'inferno e dicendo loro che Dio li distruggerà se non si ravvedono eh sì perché Gesù l'ha fatto vedete cosa gli ha detto il peccatore non è che gli ha detto io vi amo venite a me io vi amo tanto qui Gesù gli dice queste parole pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto tali cose no vi dico ma se non vi ravvedete tutti similmente perirete vedete cosa gli dice Gesù se non si sarebbero ravveduti sarebbero periti malamente gravemente come perirono quelle persone di cui gli parlano vedete quindi Gesù cosa le mostra gli fa vedere che possono subire dei gravi danni dei gravi danni oltre che andare a finire l'inferno quindi se noi li spaventiamo se anche noi diciamo annunziamo che poi è la verità se non si ravvedono gli accadrà un gran male non è che gli accadrà del bene quindi dobbiamo in un certo senso non lusingare il peccatore ma gli dobbiamo annunziare la verità quello che gli accadrà quello che gli accadrà se non si ravvede quindi se noi gli diciamo che saranno distrutti se non si ravvedono gli diciamo la verità gli diciamo la verità come anche ha detto Paolo come anche ha detto Gesù come hanno detto gli altri apostoli che chi non si sarebbe ravveduto sarebbe andato alla distruzione eterna al tormento eterno dell'inferno oltre che magari morire anche malamente su questa terra quindi attenendoci a quello che dice la parola è così che dobbiamo parlare come hanno parlato Gesù e gli apostoli nella stessa maniera noi dobbiamo attenerci in ogni cosa alle Sacre Scritture anche al messaggio da dare ai perduti un'altra cosa quindi noi abbiamo detto dall'inizio la meditazione l'insegnamento di oggi si intitola ravvedetevi e credete all'Evangelo finora abbiamo parlato del ravvedimento ma è giusto anche conoscere che cos'è l'Evangelo qual è la parte dell'Evangelo che gli dobbiamo annunziare la scrittura ci insegna anche che cosa è quali sono le parti chiamate Evangelo perché la parola di Dio non è tutta Evangelo non è tutta buona notizia capite c'è una parte che riguarda la condotta c'è una parte che riguarda la disciplina c'è una parte che riguarda mettere in guardia dei falsi dottori ed altre cose c'è una parte che riguarda il battesimo con lo Spirito Santo i doni spirituali i doni di ministerio questo non è Evangelo l'Evangelo è un messaggio ben preciso che adesso andiamo a leggere come lo descrive l'Apostolo Paolo questo perché vi dico questo perché purtroppo ancora una volta non solo oggi si predica non si predica il ravvedimento ai perduti ma non si sa molti non sanno neanche cos'è l'Evangelo che cosa gli devo annunziare tolgo il ravvedimento ed è stato tolto anche l'Evangelo praticamente non c'è più niente di quello che uno deve è scritto nella Bibbia che deve annunziare all'incredulo ormai oggi non è rimasto più nulla ormai tutto è stato sostituito dal buonismo relativismo tutti hanno ragione quei tutti hanno ragione anche il peccatore l'adultro l'ateo il fornicatore il musulmano quei tutti hanno ragione tranne la parola di Dio questo è il cristianesimo a questo punto di oggi così è arrivato a ridursi il cristianesimo moderno di queste comunità istituzionalizzate ed è per questo che noi esortiamo i fratelli a uscirsene fuori da queste comunità ma che cosa stanno insegnando Gesù ti ama vieni a noi 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 ti amiamo perché abbiamo l'amore di Dio 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 ti ama non castiga nessuno non fa morire nessuno non manda malattie questi questi sono i messaggi moderni sono messaggi provenienti dalla volontà del maligno praticamente perché è riuscito a far passare i suoi messaggi e a sostituire i veri messaggi della parola e noi oggi ci troviamo a fare un lavoro complicato perché dobbiamo spazzare via l'immondizia che c'è sopra ogni cuore di ogni credente e costruirci sopra di nuovo la parola verace la parola la parola di Dio e allora ci sentono parlare taluni e dicono ma cosa sta dicendo questo perché perché non hanno mai sentito parlare della parola di Dio hanno sempre sentito parlare di quello che quella denominazione insegna quello che il pastore insegna quello che certe cerchie di gruppi di credenti insegnano ma non la parola di Dio la leggevano ma non la intendevano saltavano i pezzi che erano loro scomodi li hanno sempre saltati e siamo arrivati salta di qua salta di là taglia questo e questo non è più per oggi e siamo arrivati a vedere a vedere quello che oggi vediamo nella chiesa vediamo che si annunzia qualcosa che non è quello che è scritto nella Bibbia tra questo appunto molti non sanno cosa è l'Evangelo oggi andiamo a leggere l'Evangelo è quello che adesso noi ci accingiamo a leggere non è tutta la parola di Dio Evangelo la buona notizia è quella che adesso noi leggiamo e dobbiamo andare per questo a leggere al capitolo prima Corinzi al capitolo 15 i primi quattro versetti ci dicono cosa è l'Evangelo fratelli e sorelle l'Evangelo è questo non è un altro tutta la parola non è Evangelo gli Evangeli si vengono chiamati Evangeli perché annunziano la buona notizia ma negli Evangeli c'è scritto ci sono scritti insegnamenti anche di tante altre cose non solo il messaggio della salvezza quindi dobbiamo distinguere qual è il messaggio chiaro dopo l'esortazione al ravvedimento ai peccatori dobbiamo annunziargli l'Evangelo ma per annunziargli l'Evangelo dobbiamo sapere cosa è l'Evangelo se no che cosa gli annunzi e vediamo Paolo che ci descrive cosa è l'Evangelo quello che lui ha annunziato che noi dobbiamo annunziare a coloro che ancora non hanno creduto al capitolo 15 quindi di prima Corinzi leggiamo i primi versetti fratelli io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato che voi ancora avete ricevuto nel quale ancora state salvi e mediante il quale siete salvati seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato a meno che non abbiate creduto in vano poiché io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture questo è l'Evangelo fratelli non è un altro è questo l'Evangelo che Cristo è morto per i nostri peccati come dicono le scritture che fu seppellito è che il terzo giorno è risuscitato questi sono i punti che noi dobbiamo annunziare e che devono credere per ottenere la salvezza ai non credenti questi sono i punti quando abbiamo parlato loro del ravvedimento dopo dobbiamo annunziargli qual è il messaggio della salvezza come fanno ad ottenere la salvezza devono credere che Cristo è morto per i loro peccati è morto per i nostri peccati e che il terzo giorno è risuscitato per la nostra giustificazione capite cioè Gesù Cristo ha sparso il suo sangue e attraverso questo spargimento del suo sangue i nostri peccati sono stati rimessi cioè sono stati purificati perché solo il sangue di Gesù che purifica dai nostri peccati non è nient'altro quindi annunziandogli la morte in croce annunziando che Cristo è morto per noi perché un sacrificio bisognava farlo senza spargimento di sangue Dio aveva decretato che non ci poteva essere la purificazione dei peccati però questo spargimento di sangue doveva venire da un animale da qualcosa di perfetto doveva essere un sacrificio perfetto e sulla terra nessuna creatura poteva poteva essere è perfetta davanti a Dio ecco quindi che è stato deciso che il figliolo di Dio l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo venisse sulla terra vivesse con carne simile alla nostra e fosse sacrificato per riconciliarci con Dio per ritrovare per fare la pace con Dio per essere per ottenere la propiziazione per i nostri peccati cioè per renderci Dio propizio al nostro favore affinché Dio venisse al nostro favore è stato sacrificato Gesù Cristo il figliolo di Dio il suo sangue il suo sangue ci purifica da ogni peccato quindi è quel sacrificio su quel sacrificio di Cristo che si concentra credere in quel sacrificio fa in modo che il peccato viene purificato la fede quindi mediante la fede nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto per mezzo di questa fede si ottiene la purificazione dei peccati e si deve anche credere che il terzo giorno Gesù è risuscitato cioè non solo si deve credere quindi se si deve credere anche che Gesù è risuscitato il terzo giorno è chiaro che quando annunziamo il messaggio dell'Evangelo dobbiamo comprendere anche dobbiamo comprendere nel nostro dire che Gesù Cristo è risuscitato il terzo giorno come avevano previsto le scritture come Dio quindi aveva stabilito è morto è risuscitato perché? per giustificarci quindi noi siamo stati resi giusti davanti a Dio siamo stati resi giusti per quella fede che lo Spirito Santo ha messo dentro di noi quella fiducia quella fede quella certezza che Cristo è morto per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato quindi credendo in questo messaggio dell'Evangelo la buona notizia della salvezza siamo stati rigenerati spiritualmente quindi questo è il messaggio che bisogna dare perché venga creduto per ottenere la salvezza per credere prima di questo messaggio per credere in questo messaggio bisogna prima di tutto annunziare il ravvedimento ai peccatori quindi ravvedimento e credere nell'Evangelo questi sono questi sono i punti che bisogna conoscere di cui ognuno di noi si deve studiare deve avere sempre pronti quindi ognuno di noi si deve preparare una sorta di messaggio per una preparazione anche soltanto mentale dei punti che deve trattare quando trova un incredulo perché perché così una volta che te lo prepari te lo scrivi te lo studi a memoria te lo studi con le scritture così tu sai che questo questi saranno i punti precisi che tu dovrai dire questo è il minimo che si deve dire all'incredulo poi se il discorso va avanti se ci sono domande voi rispondete insomma il discorso può andare alla lunga lì voi siete liberi di parlare in base alle necessità che si creano ma dove non siete liberi di parlare come volete nell'annunziare la salvezza nell'annunziare prima di tutto il ravvedimento e di credere nell'Evangelo questi punti mettetela come volete usate le parole che volete ma questi li dovete citare questi li dovete annunziare li potete leggere nella Bibbia li potete raccontare a memoria li potete dire a parole le vostre ma questo lo dovete dire è obbligatorio non è facoltativo capite ed essendo appunto obbligatorio ed essendo volontà di Dio ed essendo queste comunità di oggi corrotte ecco che le hanno tolte hanno tolto l'Evangelo hanno tolto pure il ravvedimento hanno tolto il ravvedimento ed Evangelo dal loro messaggio e si scagliano contro di noi che invece li annunziamo li facciamo paura perché annunziamo il ravvedimento gli diciamo che se non si ravvedono andranno all'inferno si si scagliano contro di noi che siamo noi praticamente nel torto il nostro torto sapete qual è quello di non parlare come parlano costoro noi ci impegniamo ci studiamo di parlare come parlano le sacre scritture è chiaro che ognuno di noi parla e vive secondo la grazia che Dio gli ha dato non è che tutti parliamo nella stessa maniera ognuno parla secondo la grazia che Dio gli ha dato certo quindi non siamo nessuno è perfetto nessuno c'ha il modo perfetto di parlare però ci sono dei punti che ognuno di noi deve sapere che deve citare poi li citi in una parola o in un'altra maniera però li deve citare non li può saltare se seppure uno ha intenzione di fare la volontà di Dio e di piacere al Signore è chiaro che se uno non vuole piacere a Dio non gli interessa niente è chiaro che poi parla secondo quello che ha nel cuore dell'abbondanza del cuore la bocca parla se uno non gli interessa niente della parola parla come gli pare parla come gli pare e noi lo riconosciamo però perché noi riconosciamo quelli che parlano secondo la parola non è che non li riconosciamo li riconosciamo bene quindi e loro riconoscono noi perché noi parliamo secondo la parola ecco quindi che non c'è comunione capite cioè se uno vuole servire il Signore a tenersi alle scritture non ha comunione con quelli del mondo non ce l'ha e non ha comunione neanche con questi credenti di oggi che che seguono un'organizzazione un pastore un regolamento degli statuti umani che non hanno niente a che vedere con la parola di Dio ecco perché non ci troviamo bene io non mi trovavo bene mai trovato bene in queste comunità se non nei primi giorni che mi sono convertito ma dopo un po' quando ho cominciato a studiare a pregare io non mi trovavo più non capivo perché ma non mi trovavo più bene ma lo Spirito mi avvisava lo Spirito mi avvisava che quello non era il mio posto io non capivo è chiaro non conoscevo le scritture non conoscevo tutti questi scandali non conoscevo i principi massonici che erano entrati in queste comunità non lo conoscevo non lo sapevo questo però lo Spirito Santo mi avvertiva e mi faceva sentire che questo non è il tuo posto e credo che se voi siete qui ad ascoltarmi ancora oggi è perché anche voi avete sentito le stesse cose e avete capito che quei luoghi quei luoghi quei luoghi non erano il vostro posto non era il posto in cui Dio vi ha messo è chiaro che soffriamo siamo distanti l'uno dall'altro vogliamo essere uniti vogliamo anche noi una comunità con cui avere comunione è chiaro questo è il nostro desiderio la nostra richiesta a Dio piangiamo ho pianto per tanti anni anche prima di conoscere voi e di avere internet per questo e adesso invece sono contento perché non importa se sono distanti fratelli ma sapere fratelli sapere che ci sono credetti che vogliono servire il Signore con cuore sincero e che studiano le scritture che si studiano i piacergli e non gli interessa di soffrire e hanno abbandonato diciamo la gloria degli uomini per me è una grande consolazione non solo per me ma anche per gli altri ministri per gli altri fratelli che si adoperano per la verità che c'è che c'è scritta nella parola di Dio e voi tutti siete la nostra consolazione capite la vostra santificazione è la nostra consolazione il vostro crescere nella conoscenza nel santificarvi di continuo nella preghiera continua che voi fate quella è la nostra consolazione capite siete voi la lettera scritta nei nostri cuori tutto il lavoro che abbiamo fatto che stiamo facendo voi siete il risultato quindi il nostro desiderio è che voi continuiate non vi fermiate continuiate a camminare nel Signore e per ricevere quando sarà il momento il premio che Dio ha stabilito per ciascuno e io ringrazio Dio per tutto quello che ha fatto per me per la mia famiglia e per tutto il suo popolo a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amèn